Ciao a tutti ragazzi, oggi vedremo come abilitare la console di comando su Steam Dalla console di comando è possibile impartire appunto dei comandi prima o durante l'avvio dei giochi Quindi avete la possibilità di modificare dei parametri o delle impostazioni dei giochi Diciamo che la console di comando è riservata più che altro agli sviluppatori e a coloro che stanno dove mettere le mani Per utilizzare la console di comando in Steam vi sono diverse soluzioni Scopriamo insieme quali sono La prima cosa da fare è abilitare la console di comando Io su Steam ho già abilitato la console di comando in questo modo Chiudiamo Steam Andiamo nella cartella dove è installato Steam Tasto destro sull'eseguibile, proprietà E assicuratevi che dopo l'estensione, quindi dopo gli apici, vi sia questa parola Quindi meno console Una volta digitato meno console, clicchiamo su ok e avviamo Steam Come per magia apparirà la console di comando in alto Da cui potete impartire vari ordini Se andate a modificare poi un file di sistema di Steam È possibile impartire i comandi anche in gioco premendo il tasto che avete associato Come di default è associato il tasto prima del primo sulla tastiera Quindi una sorta di apice ondulato Però chiaramente è possibile cambiarlo Oppure se volete avviare un gioco con la modalità console o con un comando Cliccate su un gioco a caso, cioè su quello che volete avviare con la console Tasto destro proprietà Andiamo su impostazione opzioni di avvio E qua scriviamo meno console Se vogliamo avviare subito la console appena avviato il gioco Oppure il nome del comando che vogliamo utilizzare all'avvio del gioco E questo è tutto Spero che questo breve tutorial sia stato di vostro gradimento E vi invitiamo a seguirci e a lasciare un comando